Allora, buonasera a tutti. Come diceva Lanfranco, oggi faremo un viaggio nell'antica cultura cicladica, visto che avete più o meno già un'idea di che cosa sono le cicladi, dove si trovano e così via. Come vedete, io qui ho messo, dato come titolo a questo incontro di questa sera, il segno di Dedalo. Perché? Perché nell'immaginario antico, cosa che peraltro è stata ripresa anche dagli storici dell'arte a partire dal 1700 in poi, si riteneva che Dedalo, che voi sapete essere il papà di Icaro, cioè secondo la mitologia classica, è quello straordinario inventore, architetto, eccetera, a cui si dovrebbe appunto l'inizio, l'invenzione della civiltà nel mondo greco e soprattutto l'invenzione della scultura, dell'arte e così via. E per questa ragione, quando gli storici dell'arte hanno cominciato a codificare le diverse fasi culturali della cultura classica greca, hanno chiamato l'età più antica appunto l'età dedalica, cioè intendendo un po' i primordi, l'inizio, la preistoria, se vogliamo, della cultura greca. E quindi, visto che la civiltà cicladica oggi è considerata universalmente la prima forma di cultura, di civiltà legata al mondo classico, è un po' come dire che la civiltà greca e poi anche quella romana hanno avuto inizio, se vogliamo, proprio dall'epoca e dalla cultura che si attesta nell'area delle cicladi. È chiaro? Quindi ecco perché il segno di Dedalo. E considerate anche un'altra cosa, che non si può dire che la civiltà greca è nata nelle cicladi, ma certamente le cicladi hanno avuto un peso enorme proprio nello sviluppo di questi albori della civiltà classica, un po' per la loro collocazione geografica, ma poi anche proprio per il contesto storico a cui sono legati. Le cicladi hanno avuto una grande importanza anche in epoca poi successiva, in epoca classica. Ricordate che nel cuore delle cicladi, sull'isola di Delo, come vedremo, c'era uno dei più grandi santuari di Apollo. Apollo era il dio veramente federale, nazionale, della grecità, se vogliamo. E sulle isole cicladi sono stati trovati i resti di templi di epoca classica, di ville romane, di chiese alto medievale e così via. Del resto siamo comunque nel bacino del Mediterraneo, quindi un po' nessuna zona rimane immune o illesa da essere toccata dalle varie fasi di civiltà. Ecco quindi che noi però ci occuperemo soprattutto di quello che è l'aspetto più propriamente cicladico, cioè la parte veramente più antica degli albori di questa particolare area geografica e di questa particolare civiltà. Ora, so che voi avete in parte già affrontato appunto con Gianfranco il tema delle cicladi, però io che cosa decido di fare? Decido di darvi un po' almeno un'inquadrata, se vogliamo, geografica per farvi un po' capire. Ecco, questo è il bacino del Mediterraneo orientale nella visione del satellite e quindi vedete questa è la parte che è divisa tra il Mediterraneo e il Mar Egeo, che è la parte che si trova invece qui, tra la Grecia e l'Asia Minore. Il Mar Egeo è delimitato a sud dall'isola di Creta, vedete l'isola di Creta fa quasi da barriera appunto e divide l'Egeo dal Mediterraneo, ovviamente detto. Questa divisione geografica corrisponde anche a una divisione culturale, nel senso che tutta la parte al nord di Creta, cioè la parte appunto dell'Egeo, di questa parte qui, è stata veramente, vedete, è racchiusa in mezzo a una serie di terre schiacciata quasi tra la Grecia e la Turchia e quindi pur nell'ambito del vecino del Mediterraneo è un po' come l'Adriatico, no? Cioè è una parte comunque che viene ad essere appartata o essere isolata e distinta, se vogliamo, dal resto. Proprio qui nel cuore dell'Egeo ci sono le cicladi. Le cicladi sono un gruppo di circa 220 isole, delle quali solamente alcune sono abitate, solo alcune hanno veramente la dignità di essere isole a tutti gli effetti e le cicladi, eccole qui, vedete, hanno una particolarità. In realtà si vede che geologicamente, altro non sono che il prolungamento della catena montuosa della Grecia, che a un certo punto, diciamo, entra a finire sott'acqua e la punta di queste montagne, che sono appunto sott'acqua, sono le cicladi. Quello che è interessante però è che sono tantissime, sono più di 200 e sono talmente tante che diciamo che più o meno sono una in vista dell'altra, cioè si vedono l'una dell'altra, o se due di quelle più grandi sono lontane, però qualche piccolo scoglio, qualche isolotto, anche microscopico, in mezzo c'è. E allora che succede? Che poiché la marineria, cioè il senso di andare per mare, nella preistoria nasce, non di certo con l'uso della busola o delle stelle, eccetera, ma vedo un posto, ma voglio andare lì. Ecco, le cicladi sono un gruppo di 220 posti dove voglio andare lì è possibile, perché si vedono. E quindi che succede? Che di isola in isola, usando anche imbarcazioni molto rudimentali, addirittura usando delle zattere o delle piroghe, se vogliamo, si può fare. Quindi, certamente che vuol dire? Che, diciamo, il popolamento di queste isole è stato un popolamento precoce, perché essendo una raggiungibile dall'altra e una visibile dall'altra, noi abbiamo che già nel paleolitico superiore, quindi già nella parte finale del paleolitico, gente ci è riuscita ad arrivare. E quindi, ecco lì che noi abbiamo un insediamento molto antico nell'area delle cicladi. C'è da dire però una cosa, questo insediamento così antico si sposava o si univa però a una questione estremamente importante da valutare, cioè dal punto di vista della sussistenza umana, le cicladi erano certamente uno dei posti più infami dove andare ad abitare, perché sono brulle, non c'è un albero, sulla maggior parte di loro non c'era acqua, quindi se da un lato era facile arrivarci, dall'altro però era un posto infame dove andare, perché ovviamente che ci va a fare uno su uno scoglio in mezzo al mare dove non ci sono animali da poter mangiare, non sono coltivabili, questo però riguarda comunque il neolitico, perché non c'è un terreno fertile, non c'è niente che possa favorire la presenza umana e allora che cosa ci si va a fare? Ci si andava perché proprio in alcune di queste isole, quelle che nel caso particolare avevano una loro origine vulcanica, perché tra le cicladi alcune sono vulcaniche, altre invece sono tettoniche, bene dire, quelle che hanno l'origine vulcanica avevano sopra la ossidiana, che è un materiale estremamente importante, è un vetro vulcanico e lavorando alla quale ossidiana si ottenuò delle lame estremamente efficaci e quindi poiché l'ossidiana, sono pochi, scusate, i posti del Mediterraneo dove si trova, cioè le cicladi, pantelleria, qualcosina, qualcosina a Ischia, comunque nell'area, diciamo, napoletana, nell'area campana, poi ovviamente alcune cose su qualcosa sulle baleari e qualcosa nelle eolie, è chiaro? Quindi sempre su isole però. E quindi il neolitico, poiché l'ossidiana è proprio un materiale importante per l'economia del neolitico, diciamo che nonostante questa oggettiva difficoltà che si aveva nell'abitarci sopra, la presenza dell'ossidiana era veramente un elemento di grande attrattiva, proprio perché era un materiale eccezionale che si trovava in pochi posti. In realtà poi un'altra ragione per cui si andrà nelle isole cicladi era in antico per il marmo, il famoso marmo pario, vedete un blocco in blocco qui a sinistra, però certamente lo sfruttamento del marmo è una cosa che riguarda l'epoca classica, cioè in epoca preistorica non è che la gente aveva la presunzione di andare a prendere il marmo che stava lì, è chiaro. Quindi certamente almeno l'ossidiana fosse due un elemento di attrattiva. E d'accordo quindi che cosa succede? Che noi già dal settimo millennio avanti Cristo, ma soprattutto poi nel sesto millennio avanti Cristo, abbiamo tanti insediamenti nell'area delle cicladi. Non certamente in tutte le isole però, solamente in alcune, perché in alcune l'ossidiana non c'era, erano dei sassi in mezzo al mare, quindi ovviamente nessuno ci andava. Oltretutto dovete considerare una cosa che, torno un attimino indietro, che come vedete i cicladi sono incastrate in mezzo a una serie di terre da cui, diciamo, attraverso di isola in isola si può arrivare. Cioè da una parte hanno a est la penisola anatolica e sapete che tutta l'area della penisola anatolica, cioè l'Asia minore, la Turchia se vogliamo, è una zona estremamente importante per l'uomo nazione. Cioè noi qui nella penisola anatolica abbiamo alcune delle più importanti comunità umane, abbiamo Chattaluyuk, che è considerata la città più antica del mondo, abbiamo tantissimi insediamenti preistorici importantissimi, diciamo che già nel decimo millennio avanti Cristo la penisola anatolica era estremamente importante come presenza umana. Ma poi c'è ancora un'altra zona molto importante che ovviamente subito a sud è l'Egitto. Creta è l'Egitto. E quindi che succede? Era normale che l'Egitto, che già ha uno sviluppo culturale, già una civiltà importante nel quinto millennio avanti Cristo, ci sono una serie di traffici paleocommerciali, proprio attraverso la ricerca dell'ossidiana, ricerca di certi materiali o il traffico di merci già in epoca preistorica, per cui c'era già un passaggio dall'Egitto alla Seminore attraverso le Cicladi, dall'Egitto a Creta, dall'Egitto alla Grecia peninsulare, cioè la terraferma greca, sempre attraverso le Cicladi. Insomma, erano un posto di passaggio. All'epoca certamente non c'era gente che aveva la velleità di andare a fare il bagno a Mykonos o di andare a farsi il bagno a Ios, eccetera. Però era importante il fatto che si trovavano appunto in mezzo al mare e quindi erano in una economia, in una capacità navale che era quella dell'epoca, quando queste barche erano veramente delle canoe, avevano bisogno di fare piccoli tratti, le Cicladi erano un punto di appoggio importante per il collegamento tra queste due realtà distinte, l'Asia minore da una parte, l'Egitto dall'altra, d'accordo? E quindi questo ci fa capire il valore e come mai fin già dal tardo paleolitico, ma poi soprattutto dal neolitico, diventa un luogo veramente essenziale per lo sviluppo della cultura e della civiltà. In questa carta noi abbiamo le Cicladi più grandi, come vedete quelle che sono molto piccole e i vari scogli neanche compaiono su questa carta e vedete che sono veramente in vista l'una dell'altra, quindi considerate che questo era molto importante, era molto importante anche per un'altra ragione, perché gli antichi, e questo uno se ne rende conto anche solo se legge l'Odissea, non credevano, cioè dovevo considerare una cosa, noi oggi sappiamo che lì c'è un'isola, di là c'è un'isola, è chiaro? Abbiamo delle carte nautiche, abbiamo un sistema di navigazione evoluto, quindi noi lo sappiamo benissimo. Cioè se io salpo, che ne so, da Civitavecchia vorrei andare in Sardegna, non è che nel momento che la nave parte dico, madonna, speriamo che la Sardegna c'è, la Sardegna è un'isola, sta lì, è chiaro, la becco. Nell'antichità non era così, non è sempre una precisione nautica, che succede? Che molte persone partivano e poi se andava bene le isole le beccavano, se no no, non c'era la possibilità di seguire alla perfezione le rotte. Questo aveva fatto nascere, come convinzione antica, che le isole non fossero fisse, cioè che le isole si muovessero, è chiaro? Cioè se voi leggete appunto l'Odissea o leggete anche gli altri scritti classici, leggete Luciano di Samosat, eccetera, c'era questa convinzione che le isole si muovessero, che navigassero, che spesso andassero tutta acqua e quindi questa cosa rendeva difficile pensare all'isola qualcosa di fisso, di rigido. Nel caso delle cicladi, che invece si vedevano sempre, era importante questo fatto, questa situazione. E considerate che sono divise più o meno in due sfere di influenza, quelle che sono un po' più a nord, quindi Mykonos, Delo, Orinia, Dino, Ciaro, Siro, eccetera, sono isole che risentrano molto dell'influenza anatolica. Quelle che invece sono sud, tipo Santorini, Anafi, Policandro, Milo, Antimiro, eccetera, invece risentrano dell'influenza un po' più cretese e quindi egiziana, è chiaro? Anche se però hanno più o meno avuto una cultura che per certi aspetti è un po' tutta la stessa. Considerate che questo aspetto così particolare, soprattutto questa incredibile antichità della civiltà che si sviluppava sulle cicladi, ha fatto sì che anche in epoca classica, dal punto di vista mitologico, venissero considerato un luogo molto importante, soprattutto per la loro posizione e per il loro modo di essere, diciamo, disposte nel mare. Serono infatti che cicladi, in greco kyklades, vuol dire coloro che girano, anzi, per la precisione, quelle che girano in tondo. Vedete? Perché? Perché gli antichi si erano resi conto che tutte queste isole, vedete, sono veramente un mazzetto, un pulviscolo di isole buttate lì, ma diciamo si dispongono circondandone alcune in particolare e nel caso particolare loro credevano, sempre per il fatto di quelle che si vedevano, che non si vedevano, eccetera, che queste isole fossero poste a circondare un'isola in particolare, che è l'isola di Delo. Delo è l'isola che voi vedete riportata qui in questo punto. Vedete? Non è nel centro di tutte le cicladi, ma è nel centro di quelle cicladi che si possono vedere agevolmente. Cioè da Delo si vedono Miconostino, Siro, Paro e Naxos. È chiaro? Quindi da Delo uno le vede tutte. Mentre per esempio da Siro, che è l'isola che vedete qua, Serfanto e Cittno e Sifanto, e Sifanto scusate, non sempre si vedono. Quindi loro, nella loro percezione della geografia, hanno l'idea che Delo sia il cuore, sia il centro delle isole e che le isole Kyklades girino appunto, facciano un girotondo intorno a Delo. Ora, questa particolare collocazione geografica e questa situazione aveva dato origine a diverse tradizioni, a diversi miti, anche perché, come ripeto, loro sapevano che erano isole abitate fin d'epoca antichissima, anzi addirittura che la civiltà, per loro, era nata lì, appunto sulle isole cicladi. E nel caso particolare, Delo quindi era stata caricata veramente di forza mitica e di sacralità. Questa è una visione praticamente dall'aereo di Delo, che avete un po' un'idea di questa situazione. Considerate che Delo è un'isola disabitata. Nessuno vive a Delo, è un enorme parco archeologico. Vedete, non ha aree boscose, ha una parte un pochino più alta, una leggera altura nel mezzo, che si chiama il Monte Quintos, cioè il Monte Cinto, che è questo che vedete qui. Ha questa costa un pochino frastagliata, ma il resto è molto arida, è sassosa, d'accordo? È un posto estremamente inospitale. E questa inospitalità era stata colta ed esaltata nell'antichità, ed era stata appunto legata alle origini della civiltà del mondo classico, nel caso particolare legata alla nascita di Apollo. Ora, chi è Apollo? Apollo è una dignità delle più importanti, ovviamente, del Panteon greco, però ci sono una serie di precisazioni importanti da fare, perché non si dice Apollo è il dio del sole, Apollo è il dio delle arti, diciamo che sono delle definizioni non esatte. Apollo è essenzialmente essenzialmente il dio di una cosa, cioè Apollo è il dio dell'ordine, è chiaro? Intendendo per ordine la regolarità delle cose. Apollo è colui quindi che, contro quello che è la tendenza dell'universo verso il caos, Apollo presiede all'ordine. Quindi Apollo è colui che ha imposto al mondo la rotazione, Apollo è colui che fa girare gli astri secondo una particolare sequenza, quindi il dio dell'ordine universale e l'ordine è civiltà. Pertanto, nell'ottica greca, Apollo è il dio della civiltà, è chiaro? Cioè è il dio, potremmo dire, nazionale della cultura greca. I greci si sentivano figli di Apollo. Sentivano che la loro identità, il loro modo di pensare, il loro modo di essere, era legato ad Apollo. Poi è chiaro, Apollo non è la dignità suprema, perché il mondo è fatto anche del caos, il mondo è fatto anche dell'oscurità, in fondo è fatto anche dei contrari. Quindi non può essere Apollo il dio supremo, perché se Apollo fosse il dio supremo, il mondo sarebbe un trionfo di ordine, è chiaro? E invece non è così. Quindi considerate che nell'immaginario greco Apollo è il dio dell'ordine, quindi della civiltà, è chiaro? E allora la nascita di Apollo doveva essere indicata, era proposta come inizio dell'essere, inizio di quello che comincia ad esserci, secondo una certa sequenza, secondo un certo ordine. Apollo non è il sole, però Apollo è il dio del sole. Il sole indica la luce e in questo senso Apollo possiamo indicarlo anche come dio della luce, è chiaro? Però è, come tutti gli dèi, ha in sé delle componenti negative, delle componenti, diciamo, antitetiche, se vogliamo. Ed è un dio che doveva imporre un suo ordine. Ora, imporre l'ordine è una violenza. Cioè, se io entro in un luogo in cui c'è libertà, attenzione, libertà in senso assoluto vuol dire che ognuno fa quello che vuole, è chiaro? Se io arrivo e dico, oh, allora basta, piantatela, impongo ovviamente, faccio una mia violenza per imporre un ordine. E considerate che questa cosa dagli dèi era rifiutata. Ora, nessun dio voleva un ordine, perché nel disordine, che non necessariamente è il caos, ogni dio faceva quello che voleva. Ora, si sapeva che sarebbe avvivato un dio dell'ordine, ma nessun dio era disposto ad accettarlo, questo avvento. Ora, quando Zeus arriva a sedurre Latona, cioè Leto, che era in realtà praticamente la sua zia, se vogliamo, ora Zeus arriva quindi a, diciamo, fecondare Latona. E gli dèi sapevano che il figlio di Latona era colui che aveva appunto imposto l'ordine. Per questa ragione quindi tutti avevano paura di questo dio che sarebbe nato da Latona. A questo si aggiunge un'altra componente, cioè che Zeus aveva fecondato Latona, che era appunto sua zia, e tradendo sua moglie che era Hera. D'accordo? Ora, Zeus è il dio fecondatore per eccellenza, perché, ecco perché sono tanti gli amori estraconugali, potremmo dire Zeus, perché la parola Zeus contiene radice zi, del greco zao, che vuol dire vivere. Ma vivere in senso, potremmo dire, proprio fisiologico del termine. Quindi Zeus, letteralmente, il suo stesso nome è come se volesse significare colui che dà vita. È chiaro? Ora, Hera, sapendo che da suo marito Zeus sarebbe nato nell'unione con Latona, questo figlio, diciamo, illegittimo, e che questo figlio sarebbe stato così particolare. La prima cosa che Hera cerca di fare è di impedire la nascita di questo ragazzino. E in che modo lo fa? Nel modo più banale che possa esistere nel concetto antico, prende sua figlia, la figlia sua di Hera e di suo marito Zeus, che si chiamava Ilytia, e la imprigiona. Questo perché? Perché Ilytia, se Zeus è il dio che dà la vita e Hera, della radice Orao, è colei che fa vedere, quindi che porta alla luce, la loro figlia, del dio che dà la vita e di lei che porta la luce, Ilytia, appunto, era la dea della nascita. Ilytia era praticamente colei che materialmente creava nelle donne il buco da cui uscivano ovviamente i bambini. Quindi, imprigionando Ilytia, Latona si trovava a non avere materialmente il pertugio da cui poter partorire, non aveva il sesso, l'utero, e quindi Ilytia me l'è catturata. Ovviamente, quindi Latona arriva a essere incinta, ma non può partorire perché non ha il passaggio per far passare il bambino, che poi in realtà c'erano due i bambini, c'erano una femmina e un maschio, cioè Artemide e Apollo, appunto. Che succede quindi, Latona? Arriva il momento in cui il suo parto è maturo che non può partorire. Le sue grida arrivano a Zeus, il quale sa benissimo che lì dentro c'è suo figlio, anzi sono i suoi figli, e Zeus ovviamente cosa fa? Libera Ilytia, cioè scopre dove sua moglie ha tenuti bene prigioniera Ilytia e la libera per far sì che Latona possa aprirsi il parto e il bambino o i bambini possano nascere. E quello che cosa succede? Che Hera non può impedire che suo marito faccia questo, perché suo marito Zeus è comunque il padre degli dèi. Loro che cosa fa? lancia una maledizione. Una maledizione in base al quale si dice allora nessuna terra dovrà mai accogliere il parto, perché ogni terra, qualunque terreno che avesse consentito a far nascere questo bambino sarebbe stato da Hera stessa maledetto. E poi come ripeto, Hera, la radice d'Aurao, vedere, una terra maledetta o dire una terra che scompare. Una terra che non esiste più, che non c'è la luce, che è condannata all'oscurità. E allora che succede? Che ancora una volta, ogni volta che Latona questa volta può partorire, perché l'utero ce l'ha aperto, ma appena si ferma, per poter partorire, la terra di sotto i suoi piedi scappa, va via. Quindi lei non trova nessun posto dove fermarsi, perché nessun terreno sotto acconsente che esca il bambino. E' quello che cosa succede? Che bisogna cercare un posto che o non senta, non abbia ascoltato la maledizione, oppure un posto che non è sottoposto alla maledizione. La prima cosa che fa Latona è fuggere lontanissimo ai confini del mondo, va oltre il mondo conosciuto dell'epoca. Nella terra che corrisponde oggi all'Asia minore, della Turchia, che per l'epoca era lontanissima nell'immaginario delle popolazioni protostoriche greche, dove c'era un popolo che urlava, i cosiddetti kureti, kuretas in greco vuol dire quelli che fanno il coro, cioè che urlano sempre. E questi urlando, primo, nel loro confusione, non avrebbero sicuramente sentito la maledizione di Hera, d'altro canto avrebbero coperto con loro urla le grida di Latona. Ed è quello che infatti succede, perché Latona arriva in questo posto, finalmente sgrava e da lei esce una bambina. Questa bambina sarà appunto Artemide, d'accordo? Che nasce quindi nella zona di Efeso, quindi ai confini veramente del mondo per l'epoca. Ovviamente in questo modo inganna Hera. Hera si rende conto di cosa c'è lei che è una grande madre, lì quella è la terra della grande madre, ovviamente, la Zeminore, e Hera ovviamente condanna la barbarie a quel posto, quindi la Zeminore della terra delle Amazzoni, del popolo barbaro e così via. E Latona è costretta a fuggire da lì, non può generare il suo secondo figlio anche da lì. Cerca di tornare nell'area della Grecia, ma non ci riesce. Quando gli viene in mente una cosa. Tra le sue sorelle c'era una che si chiamava Asteria. Asteria è la dea delle stelle del cielo. Asteria, Zeus, prima di cercare, prima di accoppiarsi con Latona, aveva cercato di accoppiarsi con la sorella di Latona, cioè appunto con Asteria. Ma Asteria, pur di non unirsi, di non farsi violentare da Zeus, si era trasformata in una quaglia. Certo, per Zeus far l'amore con una quaglia non era una cosa bellissima e quindi aveva desistito da questa cosa. Tuttavia Asteria, che poi non si era più adattata ad essere quaglia, aveva deciso di suicidarsi e cosa aveva? Tuttavia si era gettata in mare. Gettata in mare, lei che era comunque una dea, era diventata un'isola. Quest'isola che a volte era chiamata Asteria, lo stesso, altre volte era chiamata invece Ortigia. Ortigia significa l'isola quaglia, o meglio l'isola delle quaglie, se vogliamo. E questa Ortigia però era un'isola che, essendo fatta da una dea che era diventata tale, non era un'isola normale, ma passava molto del suo tempo sott'acqua e poi altri vetri in superficie. Quindi, come vi ho detto prima, era un'isola difficile da inquadrare. Anche perché Asteria era una dea multipla, plurima. Cioè non era fatta con un unico corpo, erano tanti corpi. Era come il corpo delle stelle, d'accordo? Quindi, è quello che c'era una Asteria effettiva, che era questa famosa isola. Ma dopo tutte le altre intorno, che erano appunto sparsi, ma forse una galassia, una costellazione, se vogliamo. Che poi è venuta davanti su e giù, sott'acqua. Ora, queste isole che stavano in parte sott'acqua, è possibile che non avessero sentito la maledizione di Hera, in quel senso. E allora cosa cerca di fare Latona? Cerca di aspettare appena una di queste isole lascia fuori per, diciamo, partorire lì. Guarda caso, proprio Asteria, cioè sua sorella, era sott'acqua quando Hera aveva pronunciato la maledizione. E allora, anche se le sorelle di Asteria, o meglio, le altre Asteria, cioè le altre stelle, cioè le altre isole, intorno, giravano intorno a lei, dicevano rimani sott'acqua, rimani sott'acqua per avvertirla. Appena Asteria è saluta e salita sott'acqua, Latona è atterrata su Asteria e, aggrappandosi a una palma, ha sgravato, cioè ha partorito il suo figlio, il quale, partorito da Latona, si è rivelato al mondo come un lampo di luce, perché ovviamente è il dio dell'ordine, quindi il dio che porta la luce. E portando la luce, il primo posto illuminato dell'universo è stato quindi proprio l'isola. È chiaro? Asteria o Ortigia, che preferite chiamare. Essendo quindi il primo luogo nel mondo che è stato illuminato, il suo nome è cambiato ed è diventato Delos. Delos in greco vuol dire appunto l'illuminata, la splendente, nel senso però che è illuminata, che è la prima che prende la luce. E quindi a Delo nasce Apollo. Ecco quindi che fin dall'epoca molto antica c'è sempre stato questo senso che Delo è un luogo sacro, un luogo dove potremmo dire per primo è, diciamo, è illuminato il sole. Per primo è stato il luogo che è stato veramente colpito dal sole. Infatti gli antichi credevano che il fatto che l'isola di Delo fosse arsa, bruciata dal sole, priva di vegetazione, era considerato per il fatto che lì per primo il sole era brillato, d'accordo? E quindi aveva arso l'isola che ancora rimaneva bruciata. Cioè è da dire che poi lo stesso Apollo non era voluto rimanere in quell'isola, quindi aveva trovato il modo di scappare da quell'isola a cavallo di un delfino e di farsi accompagnare in un luogo che sarebbe stato il suo santuario più importante, cioè Delphi. Considerate che quindi potremmo dire che due erano i grandi santuari nell'immaginario greco, tutte due legati ad Apollo. Il tempio di Apollo a Delo, che è il tempio della nascita di Apollo, e il tempio di Apollo a Delphi, che era il luogo dove Apollo era sconfitto, il famoso serpente pitone, né anzi la serpente pitone, perché era una pitonessa, e lì aveva imposto appunto la rotazione del mondo. Gli antichi pensavano che il mondo girasse avendo come perno appunto la città di Delphi. Ma prima di andare a Delphi il mondo aveva cominciato a girare avendo come perno appunto l'isola di Delo. E quindi le cicladi che girano intorno a Delo erano una reminiscenza di quando il mondo girava avendo come centro proprio l'isola di Delo. D'accordo? Questo è un po' il tentativo di spiegazione geografica che la mitologia aveva cercato di dare, diciamo, nell'antichità. In realtà tutto questo era per indicare che la ciltà, la luce, è errata lì. In realtà Delo, questa appunto è una veduta, oggi c'è, dell'isola. Oggi vi ho detto è cooccupata e disabitata, è un unico grande sito archeologico, questo edificio che qui in fondo è il museo, e questo è tutto quanto l'abitato. Considerate che l'abitato, ciò che vedete, sono essenzialmente strutture di epoca romana o ellenistica romana, del tempio rimane parte del Temenos, cioè del recinto sacro, e il luogo del parto della nascita di Apollo era sulla cima del monte, che è questa piccola, monte, è questa altura che avete qui nel mezzo, dove appunto si sarebbe trovata questa famosa palma aggrappata alla quale la tona aveva partorito. È chiaro? Quindi Delo è certamente un luogo importantissimo, purtroppo, purtroppo si fa per dire, perché ovviamente poi la storia decide lei cosa trasmetterci, purtroppo il sito ellenistico, quindi le strutture di epoca ellenistica romana, hanno ahimè cancellato quelle che sono le parti più antiche, proprio che succede che Delo, che sicuramente avrà avuto degli importantissimi insediamenti preistorici, anzi forse addirittura i più antichi insediamenti preistorici, li ha perduti perché le strutture dei secoli successivi li hanno cancellati, è chiaro? E quindi oggi uno va lì a Delo e quello che vedete sono i resti dell'epoca romana, dell'epoca dell'ellenistica romana. Ma tutta la parte delle cicle di era abitata, era abitata in modo, diciamo, con degli insediamenti, a partire già, potremmo dire, dal pallidico c'è una frequentazione, c'è una presenza, ma un insediamento evoluto, cioè un villaggio, potremmo dire, anche un villaggio complesso, una sorta di situazione preurbana, noi ce l'abbiamo dal neolitico e dopodiché si attesta soprattutto nel tardo neolitico fino, potremmo dire, all'età del bronzo, anzi fino alla fine dell'età del bronzo. Sapete che noi archeologi siamo un po' psicopatici per certe cose, cioè invece che usare una cronologia e dire, allora, abbiamo questa cronologia e ci fiduiamo a questa cronologia qui, ci divertiamo ad un'infinità di fasi, per cui, per esempio, la cicletà cicladica la dividiamo in cicladico antico A, cicladico antico B, cicladico medio A, cicladico medio B, cicladico medio C, cicladico tardo A, cicladico tardo B. Voi direte, vabbè, basta sapere ognuno di questi cicladici, diciamo che è, e allora voi chiedete a qualcuno, senti un po', ma il cicladico medio A, a cosa corrisponde? Voi pensate che quello vi dica, ma siamo intorno al 1700 a.C.? No. Vi dice, il cicladico medio A, ah sì, è facilissimo, equivale alla creta post-palaziale A, cioè, cioè in realtà parliamo dell'elladico secondo A, cioè, cioè parliamo nell'ambito egiziano del nuovo regno della diciannovesima dinastia, cioè purtroppo sfugge questa cosa al grande pubblico capirla, perché si ragione in termini di confronti. In realtà, quando è che le cicladi diventano importanti? Sono abitate, fin, vi ho detto, dal pallolitico, ma soprattutto diventano importanti nel tardo neolitico, cioè intorno al 3500 circa avanti Cristo. Però attenzione, il tardo neolitico è 3500 circa avanti Cristo lì nelle cicladi, perché in altre parti del mondo il tardo neolitico è avvenuto molto prima, per esempio in Egitto il tardo neolitico c'è nel 4002 avanti Cristo. Quindi, per non complicarci, facciamo solamente i rifierimenti alla civiltà cicladica. Diciamo che la civiltà cicladica è quando queste diverse realtà delle isole cicladi cominciano ad avere tutte quante più o meno lo stesso tipo di cultura, lo stesso tipo di civiltà. Non c'era un regno che le univano tutte quante, ogni isola aveva una sua cultura, chi era un po' più avanti, chi era un po' più indietro, ma più o meno ogni isola aveva una sua cultura e queste culture, ognuna di ogni isola diversa, avevano dei caratteri comuni, è chiaro? E questo comincia intorno al 3005 circa avanti Cristo. Però poi la civiltà vera comincia intorno al 3002 circa avanti Cristo e va avanti fino al 2008. Allora, dal 3002 al 2008 avanti Cristo parliamo di cicladico antico. Dal 2008 al 2004 circa avanti Cristo abbiamo il cicladico medio, dal 2004 diciamo, scusate, il cicladico antico A, dal 2004 al 2000 abbiamo il cicladico diciamo medio-tardo, dal 2000 avanti Cristo al 1800 avanti Cristo abbiamo il cicladico tardo. Cioè, insomma, per esemplificare, quando si evolve la civiltà cicladica? Tra il 3000 e il 2000 avanti Cristo. Ecco, quindi siamo nell'arco in questi mille anni tra il 3000 e il 2000. E poi nel 2000 che succede? Nel 2000 non è che sparisce la civiltà cicladica, continua, ma ormai subisce molto forte l'influenza di Creta e quindi verrà praticamente cancellata, verrà spazzata via dalla civiltà cretese che prende il sopravvento sulle cicladi. Ora, considerate che in quest'ottica che tipo di insediamenti c'erano sulle cicladi. Ma questo che vedete qui è una pittura, si chiama, sapete, la pittura di Atlantide, perché qualcuno pensa che questa civiltà così antica si è il ricordo presso i greci di questa realtà di Atlantide e viene da Acrotiri, cioè da Santorini, che è la più meridionale delle cicladi. Premetto che io in questo incontro di stasera non vi parlerò di Santorini, perché Santorini, pur appartenendo alle cicladi, però costituisce un caso a sé, d'accordo? Parliamo appunto di civiltà di Santorini, che è molto influenzata da Creta, dall'Egitto e così via. Però considerate che quindi abbiamo un po' un'idea di come hanno fatto queste case, questi abitati, queste case basse e queste barche, queste navi che collegavano tra di loro le isole. Però c'è da dire che questa pittura che vedete qui è molto più recente, cioè non è una pittura del terzo millennio anticristo, è una pittura del milleotto circa anticristo, però è comunque la pittura più antica che abbiamo, che ci rappresenta un po' questa cultura, questa civiltà. Questa foto, sempre da Santorini, è una foto in realtà che fa vedere più o meno come erano fatte questi insediamenti, queste case fatte di sassi e argilla e poi se vedete questi vasi all'interno, Santorini si è conservato di più a Crotiri perché se avete stato distrutto un po' da un vulcano, un po' Pompei se vogliamo e quindi delle cose lo conosciamo, però come vi ho detto non è una non è esemplificativa per la civiltà cicladica. Per esempio sulle cicladi siti archeologici così antichi sono molto rari perché come vi ho detto prima sono civiltà molto antiche. Qualcosa ha trovato per esempio sono alcune tombe, questa che vedete qui è la cosiddetta tomba di Omero a Ios, l'isola di Ios. Considerate che non è certamente la tomba di Omero, ma perché una delle tombe più antiche trovate in tutta la Grecia è stata chiamata la tomba di Omero. È una tomba che si date in realtà intorno al 2000 circa avanti Cristo, è una tomba a camera con una porta d'ingresso trovata già violata questa qui. È chiaro, quindi non abbiamo indicazioni molto particolari. La civiltà cicladica però per noi è molto importante per la sua grande antichità e soprattutto per ciò che ci ha restituito e la cosa più straordinaria che questa civiltà ci ha restituita sono i cosiddetti idoli. Cioè curiosamente noi quasi non sappiamo come erano fatti i villaggi, non sappiamo come erano fatte le necropoli perché tranne qualche tomba il resto non è stato trattato niente. Anche sull'economia di questa città abbiamo tanti dubbi. Perché? Perché purtroppo le cicladi sono isole piccole, è chiaro? E hanno avuto un boom turistico negli ultimi 50 anni e quindi che succede? In queste isole dove molto del terreno la brullo, le uniche parti in cui si riusciva ad abitare sono quelle dove già nell'antichità hanno abitato. Perché cosa significa? Che negli ultimi 50 anni tutto ciò che c'era sull'isole e cicladi è stato, archeologicamente parlando, distrutto sistematicamente dalla presenza turistica e dalla costruzione degli alberghi, dei resort, ma anche dei villaggi dei pescatori, della gente locale. Quindi noi oggi sulla civiltà cicladica sappiamo pochissimo. Quello che abbiamo sono gli idoli. Perché? Perché da quando nel 1800 gli abitanti locali avevano cominciato a fare i buchi per farsi casa, avevano cominciato a trovare delle statuette, i cosiddetti idoli ciclatici e ne hanno trovati migliaia. Il problema qual è stato? Che man mano che li trovavano, li vendevano. Per cui c'è stata una dispersione, una diaspora enorme di questi idoli etici cicladici e purtroppo decontestualizzati. Non sappiamo dove stavano, che servivano, come erano fatti. Tutte cose che per noi è impossibile sapere, è chiaro. Quindi oggi ce li abbiamo, li vediamo, sono molto belli, ma a che cosa servivano? E se i sossaggi sono trovati nelle tombe o nelle case o negli altari? Questo non lo sappiamo. Ecco quindi che noi ci troviamo a dover giudicare una civiltà da alcuni elementi della cultura materiale. Cioè un po' come dire, immaginate che della nostra civiltà oggi non rimane niente e tra 5.000 anni cercheranno di farsi un'idea di noi solo avendo ritrovato centinaia di migliaia di telefonini. Telefonini che non sono poi tra l'altro in grado di essere accessi e vedere cosa c'è dentro, no? Guarda, questi telefonini si faranno un'idea della nostra civiltà. È chiaro? Questo è un po' il senso, il concetto. Ecco. E questo sono, per un archeologo, gli idoli cicladici. Ora, questi idoli poi tra l'altro subiscono un'evoluzione. I più antichi, ad esempio, sono i cosiddetti idoli a violino. Vedete? Cioè non c'è dubbio che tutti questi idoli siano figure umane. Questo è importantissimo perché vuol dire che c'è una precocità dell'idea dell'antropizzazione e della figura umana. Assolutamente il Mesopotamine, Egitto, adoravano gli animali. Agli abitanti deciclati, vuoi perché gli animali non c'erano, vuoi perché non gliene fregava niente, il senso dell'arte si manifestava nella figura umana. È chiaro? E la figura umana però stilizzata nella forma estrema. Vedete? Addirittura solo la forma, diciamo, a doppio lobo che ci attesta, in base, se vi ricordate, a quella conferenza che ho fatto con voi, un culto femminile. Non c'è dubbio che queste sono figurazioni femminili. Ma vedete, sono la femminilità ridotta all'estremo. Non si tiene conto né del volto, né della testa, né proprio solo la forma. Quindi che vuol dire? Che forse prima del culto di Apollo c'era un culto matriarcale. Del resto l'abbiamo detto, no? Il Mediterraneo antico è matriarcato. Quindi anche le isole cicladi erano matriarcate. E questi che sono gli idoletti più antichi, tra il 3002 e il 2008 a.C., sono, vedete, appunto i cosiddetti idoli a violino, si chiamano così. E sono fatti della pietra locale. La pietra locale è il marmo. Fortunatamente il fatto di averli fatti in marmo ce li ha fatti conservare. Ma chissà quanti ce ne erano fatti magari in legno o in altro materiale che sono andati perduti. Quindi è molto probabile che fossero un elemento religioso che le persone portavano a mozei. Forse se lo portavano a pesa al collo, forse se lo mettono in una tomba, forse ce lo avevano in casa. Questo non lo sappiamo. Ma sono un elemento più evidente proprio della cultura ciclatica. Vedete, l'aspetto femminile comincia poi a rendere sempre più evidente, sempre più manifesto. Tanto che poi, sempre intorno tra il 3000 e il 2008 antichristo, alla semplice forma così, si abbina anche la caratterizzazione di alcuni elementi sessuali. Vedete, il seno qua. Il seno che è preso viene evidenziato anche con le mani che premono il seno e la vulva che vedete sotto. Vedete, sempre questo culto del femminino sacro, della generazione. Ci fa capire che il culto di Apollo, Apollo maschio, non c'era in questo momento. È un culto essenzialmente appunto femminile, in questo caso. Guardate anche quest'altro. Ok, qui la stilizzazione estrema, quello che c'è a destra, vedete, è un idola clessidra, ma in realtà l'intento è sempre quello di evidenziare queste forme femminili molto molto estremizzate, se vogliamo, con gli elementi del seno. L'altro invece, a destra, è molto interessante perché richiama pensare anche quelli della sinistra, scusate, quelli della Sardegna, quelli di Malta, grande, sempre questa idea del Mediterraneo, del matriarcato Mediterraneo antico. Dopo il 2800 circa avanti Cristo, gli idoli cominciano ad assumere delle connotazioni un po' più umane, con l'aggiunta delle braccia e delle gambe. E l'indicazione, ancora una volta, degli elementi sessuali. Vedete? Guardate, interessante. Questi non è che sono rotti, non è che la testa è rotta. La testa proprio non c'era. Cioè, come dire che la testa è una caratterizzazione. La testa indica una donna piuttosto che un'altra. Invece l'assenza della testa indica la volontà di far decadere la specificità dell'individuo e far prevalere il senso della femminilità in chiave assoluta. È chiaro? E quindi vedete che la testa non viene fatta mentre c'è una fortissima caratterizzazione sessuale. Guardate che vulva grande che è la figura di sinistra. E addirittura diventano figure steatopigie, cioè con questi grandi fianchi, questi grandi glutei, tutti questi elementi che appunto gli indicano questa prosperità. Ricordate sempre quei discorsi che abbiamo fatto sul femminino sacro. Ancora, serializzazioni. Quando siamo intorno al 2500 circa avanti Cristo, gli elementi umani aumentano e compaiono, vedete, sempre queste componenti che sono figure che si tengono il seno stretto, così, o che hanno sempre questi fianchi. Ora, anche se considerate che geograficamente, sì, è vero, sono delle isole piccole, ma occupano uno spazio piuttosto grande, è interessante il fatto che su tutte quante le cicladi noi troviamo diffondersi queste culture. Quindi vuol dire che se anche ogni isola, o quasi ogni isola, aveva la sua identità, il suo popolo, c'era però una corrente culturale che le riunificava tutte quante. Ecco perché noi non chiamiamo civiltà di Mykonos, o civiltà di Skiros, o civiltà di Delo, ma parliamo genericamente appunto di civiltà cicladica, sempre fatti con questo marmo locale. Quando siamo intorno al 2500-2300 circa avanti Cristo, comincia finalmente a esserci delle figure più connotate. Noi chiamiamo la fase di Plasteris. La fase di Plasteris è quando le figure sono ben caratterizzate, sono sempre stilizzate, hanno sempre delle connotazioni, non hanno il particolare degli occhi, niente, però sono in realtà già più rifinite e sono sempre figurazioni femminili. Quindi chissà, forse Asteria, Latona, erano loro le divinità verbi antiche e la nascita di Apollo indica il passaggio tra il matriarcato e il patriarcato. Gli isoletti, gli idoletti, scusate, sono di tante dimensioni diverse. Tutti diventi compattati, tutti riuniti, con queste figure in nudità. Qui compaiono anche le teste, ma rimangono rigorosamente stilizzate. È chiaro che è fatto in marmo, quindi in materiale è molto duro, quindi sono figure che vengono, più che essere scolpite o cesellate, sono strusciate, sono consumate per dargli un po' questo effetto, dargli appunto questa loro figurazione. E queste sono invece siro-palestinesi, sono figurazioni dell'idea Ishtar, Astarte. Sono contemporanee, eppure guardate, sono molto più caratterizzate e guardate però il senso è lo stesso, fianchi molto larghi e figura nell'atto di premersi il seno. Quindi non è una caratteristica solo delle cicladi, questa esaltazione dei caratteri sessuali. È una caratteristica, abbiamo detto, di tutto quanto il Mediterraneo antico, nella fase, potremmo dire, protostorica. Ancora, guardate, le diverse dimensioni che hanno. Pensate, gli idoletti ciclatici vanno dall'essere, diciamo, alti meno di un centimetro fino al più grande che noi conosciamo, che si trova al Museo Nazionale di Atene, che è alto un metro e sessantaquattro. Quindi ci sono veramente di tutte le forme, da così a un metro e sessantaquattro, quelli che conosciamo noi. Ma chissà quanti ce ne erano andati perduti, di dimissioni ancora diverse. Però è importante perché vuol dire che quindi è un senso del divino che viene manifestato in tutte le diverse forme e sempre in pietra, o quantomeno in pietra, sono quelli che sono rimasti a noi. Però considerate che questa cultura, a un certo punto, quando siamo nel 2500 a.C., avrebbe potuto farli di rame, ad esempio. Tra l'altro, pensate che su due isole, le cicladi, ci sono giacimenti di rame e quindi addirittura un'altra motivazione per andare a sbarcare sulle cicladi e commerciare con le cicladi è comprare il rame da parte degli egiziani o degli ittiti o degli anatolici. È chiaro? Eppure c'è solamente un idolo frammentario, peraltro, nel rame. Gli altri ne sono tutti quanti in marmo. Non ce ne sono uno in terracotta, ad esempio. Quindi ci deve essere anche lì una volontà di manifestare nella pietra, quindi nel materiale duro per eccellenza, questo senso del sacro per loro. Questo è il più alto di tutti, che vedete, si trova ad Atene, un metro e 64. In realtà dimensioni a parte è uguale, vedete? È esattamente come gli altri. Sempre serizzato, sempre vedete il viso assente. Ora intendiamoci, noi da alcuni, perché ne sono stati trovati anche moltissimi frammenti, oltre che alcune servette intere, guardate questi, sono per esempio i frammenti di tre teste. A volte addirittura era concepita solo la testa. Immaginate quanto poi il ritrovamento di queste statue, di queste teste, di questi oggetti, avvenuto soprattutto a partire della seconda metà dell'Ottocento, quanto abbia fortemente influenzato l'arte contemporanea. Non è un caso che artisti come Miró, ad esempio, come Matisse, saranno fortemente influenzati di retromento di questi materi di qui, ma anche dallo studio dell'arte preistorica, potremmo dire, delle popolazioni dell'Africa centrale. Cioè, tutto questo viene molto rielaborato, ristudiato anche dal pensiero artistico tardo-ottocentesco e novecentesco. È chiaro? Eppure, a dire, almeno c'è una motivazione ben diversa in origine quando c'era il senso appunto dell'assolutismo. Cioè, ciò che non è definito è assoluto. È chiaro? Quindi è il senso dell'assolutezza del divino. In quest'ottica vanno giudicati gli stili ciclatici. Poi ogni isola c'è una sua impronta. Chi vedete fa la testa molto sfuggente indietro, chi la fa che tende a richiudersi sopra. Siamo sempre più o meno in quel momento, nella metà e nella seconda metà del terzo millennio avanti Cristo. Alcune di queste teste, però, recono delle cose interessanti. Alcune, come ripeto, il problema è che sono state trovate in modo quanto mai rocambolesco, la maggior parte. Però qualcuna, in qualche scavo archeologico, è stata trovata. E alcune mostrano dei segni di pittura. Guardate in questo caso. Questa di sinistra, ad esempio, ha questi puntini, come fossero, vedete, delle lentiggini e ha anche una parte che rappresentano gli occhi e una parte che riguarda, come fossero vedete, i capelli. Quindi, forse, alcune avevano, se non tutte, avevano del pigmento sopra. Però questo pigmento è veramente minimo, assolutamente. Qualcuna addirittura aveva anche la caratterizzazione della bocca e lo vedete nella testa che è riportata da destra, così. Ma la maggior parte, no. Questa vetrina, conservata appunto ad Atene, indica la grande varietà, vedete, da quelle a violino che vedete in alto a sinistra, fino a quelle a macchia che vedete in alto a destra, fino anche a tutta l'altra serie che vedete sotto, per indicarvi la grande quantità di dimensioni, forme. Considerate che oggi nel mondo, nei vari musei, noi di questi doretti cicladici ne abbiamo veramente decine di migliaia, di tante dimensioni diverse. Alcuni poi possono avere veramente delle connotazioni particolari, quando siamo intorno al 2300 circa avanti Cristo. Cioè, si tende ad abbandonare l'assoluto, diciamo, rigidità e pur mantenendo una certa stilizzazione, che non viene mai persa, appaiono delle connotazioni, per esempio, delle figurazioni molto più dinamiche. Guardate la figura di sinistra che sta suonando un flauto a doppia canna, il cosiddetto aulos. Vedete? Ora, questa figura di sinistra è un uomo? Molti pensano che rappresenti un uomo, però attenzione perché non è il seno, non è indicato il seno, ma questo vuol dire poco, d'accordo? Il fatto sta che se il senso era il divino, cioè se queste figure sono degli idoli, non rappresentano il morto, rappresentano la divinità. Possibile che in questo momento questo sia un dio che suona il flauto? Oppure nel 2300 circa avanti Cristo il senso della figurazione, diciamo, travarica la limitazione al divino e comincia ad interessare anche l'essere umano? Purtroppo non lo sappiamo, perché appunto, come vi ho detto, le nostre conoscenze della cultura ciclatica si fondano essenzialmente sulla conoscenza di questi idoli. Quello che è certo è che alcuni, come nel caso della figurazione femminile che vedete a destra, cominciano ad avere gli occhi, una divisione netta, addirittura anche l'ombelico e così via. Quindi la connotazione anatomica nel 2300 circa avanti Cristo diventa maggiore. Ma vedete, non è che diventano aggiorni che diventano più bravi, perché non è che fanno delle cose tali che mille anni prima non sarebbero stati in grado di fare. Cambiano il senso della rappresentazione. È chiaro? Voi dovete sempre capire che la volontà di rappresentazione non è legata alla capacità, è legata alla volontà. È chiaro? Cioè, se Picasso avesse voluto, non è che Picasso non avrebbe saputo dipingere un volto umano come lo dipinge Raffaello. Quindi se Picasso deliberatamente decide di non dipingere come dipinge Raffaello è perché Picasso vuole dipingere in quell'altro modo, perché il tipo di messaggio che ci vuole dare è un messaggio che deve travalicare la semplice immagine, la semplice, potremmo dire, figurazione del volto, come invece magari la fa Raffaello. È chiaro? Quindi il stesso discorso è legato a questi idoletti. Il capolavoro, se pretendo per indicare che è la più complessa, tra gli idoli ciclatici che conosciamo è il cosiddetto artista. È una statuetta molto bella, alta circa un mezzo metro, un po' di più, fatta tutta quanto in marmo, fatta in un unico pezzo di marmo che viene lavorato. Pensate alla difficoltà di contrapano a fare tutti i pezzi intermedi, poi ovviamente si è rotta e si è rimontata in epoca recente. Però considerate che questo era tutto un pezzo. Guardate, è tutta costruita su una sequenza di triangoli. Il triangolo dell'arpa si ripete anche nel triangolo delle zampe della sedia, vedete? Questa sequenza di triangoli abbinati insieme. Anche qui, l'arpa che cosa rappresenta? Perché c'è questo tema dell'arpa? C'è una divinità connessa con l'arpa? Possibile che questo, che se è un maschio, perché vedete non è il seno, se è un maschio, è possibile che è Apollo? Apollo in fondo è rappresentato Cittaredo. Quindi questa figura rappresenta già Apollo, oppure Apollo deriva da questa figurazione qui. Cioè l'arpista è un senso del divino che prescinde e precede Apollo? Oppure è già qui in via che c'era già un culto presente di Apollo? Quello che è certo è che questa statua, che è variamente datata tra il 2800 e il 2300 a.C., per noi è un'opera straordinaria. Purtroppo, essendo decontestualizzata, essendo stata trovata in uno scavo archeologico regolare, ahimè ha un arco cronologico grandissimo, dal 2800 al 2300 a.C., cioè 500 anni. È come se oggi vi dico un quadro, questo si data o al 1200 al 1800. Cioè nel 1200 c'è Duccio da buon insegna, nel 1800 ci sta Monet. Quindi in quei 500 anni c'è una differenza considerevole, è chiaro. Eppure in questo caso la mancanza di un contesto archeologico ci impedisce di poterlo identificare. Noi lo chiamiamo l'arpista, appunto dallo strumento, considerate che c'era già l'arpa, perché arpe sono state trovate per esempio già nelle tombe sumere di Ur, quando siamo intorno al 3000 a.C. e arpe provengono anche dalle tombe egizie dell'antico regno. Quindi proprio attraverso la mediazione di queste civiltà antiche abbiamo appunto l'arpa, è chiaro. Del resto, per esempio, i greci non conoscevano l'arpa, i greci conoscevano la cetra. E la cetra e la lira erano due strumenti realizzati con i carapaci delle tartarughe, ma questo è evidente che non è né una cetra né una lira, è proprio un'arpa. La derivazione egizia in questo caso è evidente. Bellissimo anche questo, dove addirittura queste tre statuetta sono presentate quasi nell'atto, vengono chiamate dei giocolieri. In realtà è probabile che non sono dei giocolieri. Forse vedete il personaggio che è tenuto sopra, ha le mani, come abbiamo visto, che tengono il seno, no? Possibile che sia una sorta di figurazione sacra, una sorta di dea o di donna sacra che viene sollevata da queste figurazioni lacrali che sono quasi sicuramente delle figurazioni maschili, perché hanno all'inguine un rigonfiamento che sembrerebbe il sesso maschile. Anche questo è molto interessante, esistono pochissime, si contano solo le dita di una mano. Le figurazioni che sono complesse, cioè fatte da più di un personaggio messo insieme. E questa è bellissima, interessantissima. Purtroppo, quando noi abbiamo un unico oggetto, è impossibile contestualizzarlo e capirne la spiegazione. Questo è un altro arpista, ma questo è molto, tra virgolette, più recente, perché questo è tra il 2000 e il 1800 a.C. Quindi già, guardate, come 500 anni o addirittura mille anni dopo, perché se quell'altro poteva essere del 2008 e questo può essere del 2008, sono mille anni dopo, come la connotazione è molto diversa, ma iconograficamente parlando, nel senso è lo stesso. Cosa significava questo elemento legato all'arpa? D'accordo? Molto importante questo aspetto. Considerate, per esempio, che secondo l'Iliade, l'arpa, o meglio uno strumento simile all'arpa, era suonato precedente da Achille. Noi oggi tendiamo a collegare il senso dell'arpa alle donne, no? Sono le arpiste, in genere, sono donne. Invece, addirittura, in epoca antica, questo tipo di strumento era connesso a Apollo, ad Achille, cioè a delle figure maschili spesso importanti. Ecco, questa vuol dire la stessa statuetta, vista di fronte di Etergo, ma è molto, molto più evoluta, sempre fatta in marmo, sempre in marmo di paro. Con lo stesso marmo ci fanno anche i vasi. Chiaramente, essendo isole, non c'è l'argilla per fare il, diciamo, non ci sono i fiumi. Pertanto considerate che quando poi si comincerà a usare dell'argilla, è un'argilla che viene da fuori, e anche spesso i ceramissi vengono da fuori, per cui gli oggetti, i vasi, sono scavati nella pietra, scavati nel marmo, come appunto vedete in queste cose qui, e sono evidentemente, nella loro forma, derivanti dalle zucche, cioè dall'uso di far seccare, svuotare le zucche e usare quelle come recipienti. Tuttavia, a un certo punto, dei vasi di materiale in argilla c'è, e viene appunto da argilla e viene da fuori. Qui, anche qui, la derivazione è sempre da zucche, però ci sono anche vasi più elaborati, di evidente derivazione egizia, come questo vasetto, con tutti questi vasettini messi uno accanto all'altro, che chiamano appunto la decorazione della ceramica o dell'abastro scavato fatto dagli egiziani. La decorazione, sempre vedete, è molto lineare, che imita come fossero le reticelle dove i vasi venivano messi e appesi all'interno delle abitazioni. Interessantissimi anche alcuni elementi della coro classica, come questi orsetti, sono due orsi, se ci fate caso, pure qui, gli orsi, ma le cicle di orsi dove li vedevano. In realtà è evidente che sono derivazione da animali che magari vedono delle pitture che vengono dal mondo di Tita o dal Natoli, eccetera. Però il fatto che ne sono stati trovati ben due, in due località diverse, indica che c'era evidentemente una circolazione di questo tipo di simbolo. Con l'argilla a volte sono dei grandi giare, ricordate anche quella foto che vi ho fatto vedere prima di Acrotiri di Santorino, quella casa, con quelle grandi giare. Queste sono enormi, qui dentro potrebbe entrarci uno di noi, sono veramente delle giare, se vogliamo. Sempre fatte in argilla, molto grande. Interessante sono delle padelle. Esistono dei tipi di vasi, fatti solo in ricicladi, si chiamano appunto le padelle cicladiche. La particolariità è che hanno la forma di una padella, molto bassa e larga, ma quello incredibile è la decorazione sul fondo. Cioè nella parte dove la padella si appoggia. Questi sono i fondi, sono delle decorazioni elaboratissime che richiamano dei motivi tessili. Quindi derivavano dalla decorazione dei tessuti. O del legno intagliato. Qualcuno ha pensato che è come se ogni gruppo familiare avesse un suo simbolo. Quindi che questa simbologia vise un carattere araldico, se vogliamo. Dove però compaiono sempre certi simboli del carattere, diciamo, fortemente semantico connesso con il divino, tipo le spirali, le stelle, le croci e così via. E queste sono, diciamo, dal 2005 al 1800 circa, avanti Cristo. Alcuni sono straordinari, guardate queste. Con questa sequenza incredibile di spirali, vedete? E poi degli elementi degli animali stilizzati. Forse questo qui è un millepiedi o forse una barca, non lo sappiamo. E ancora una volta dei richiami sessuali. Guardate com'è evidente che quello che sto indicando ora qui sotto è una vulva, ma anche da quest'altro lato, vedete? Cioè l'elemento simbolico a tema sessuale è un elemento simbolico che persiste all'interno di tutta quanta la produzione ceramica ciclatica. Perché nell'immaginario antico, ricordate sempre questo è un elemento molto importante, il Dio è Dio perché crea. E l'unica forma di creazione che loro avevano davanti a loro occhi era la creazione sessuale. Pertanto la divinità è fortemente legata alla sessualità. Ogni Dio è Dio perché è sessuato ed è sessuale. E questo lo riconoscete nei molteplici amori di Zeus, lo riconoscete nella generica appunto, potremmo dire, adulterio, che quasi tutte quante le divinità antiche hanno, anche negli incesti che hanno le divinità antiche. Il divino è connesso al sessuale, è chiaro? Quindi laddove il simbolo con cui io decoro il vaso, l'oggetto, è un simbolo che vuol far sì che l'oggetto abbia una sua sacralizzazione, questa sacralizzazione non può che passare attraverso il risvolto sessuale. Così come è divina la spirale. Perché laddove connesso al divino è la regolarità del ritorno, primavera, estate, ottuno, inverno, primavera, estate, ottuno, inverno, primavera, estate, ottuno, inverno, alba, mezzogiorno, tramonto, notte, alba, mezzogiorno, tramonto, notte, questa ciclicità, il ritorno, che è espresso da che cosa? Dal cerchio e dalla spirale. Perché la spirale è un ritorno continuo, costante, senza fine. Quindi questi cerchi, uno nell'altro, queste spirali che vedete qui, esprimono in ogni caso il senso del divino. E quindi la spirale da cui si evolve la svastica, devo poi dire anche la croce, sono simboli del divino in senso assoluto e, potremmo dire, universalmente leggibili e universalmente interpretabili. Quindi ricorrono nelle decorazioni costanti. Questi sono appunto il fondo di queste padelle fatte in argilla, fatte in ceramica. Anche queste, bellissime, anche queste si datano intorno al 2000, circa avanti Cristo. Anche qui guardate quante componenti di ricamo sessuale, quante spirali, una connaturata nell'altra. Perché nessuna spirale poi finisce, ma ogni spirale finisce nell'inizio dell'altra. E questo è il senso assoluto della spirale, che è perenne in se stessa, che genera come evoluzione di questa idea il labirinto. Questa è cultura cicladica. Nel mondo cretese diventerà il labirinto. È chiaro, ma il labirinto è un'evoluzione della spirale. È chiaro. Oggi noi pensiamo al labirinto di Knosso, il più antico, ma il materiale di cui stiamo parlando questa sera, la cultura cicladica è molto più antica del labirinto. Sono mille anni prima del labirinto di Knosso. Quindi considerate che il labirinto è un'evoluzione del senso della spirale. E il labirinto, ricordate che vuol dire la casa delle asce, perché in cretese antico labris significa appunto ascia bipenne. E l'ascia bipenne è una simbologia sacra di carattere fallico, come avveniva da quasi tutte quante le armi del resto. Ovviamente questa civiltà cicladica straordinaria verrà a un certo punto poi assorbita, quando siamo intorno al 1800-1600 Anticristo, in realtà da un suo, potremmo dire, da una sua emanazione, che è la civiltà di Creta. Creta viene popolata anch'essa nella preistoria, ma Creta comincia ad evolvere una sua identità culturale solo a seguito dell'influenza di quella cicladica. Laddove i cicladici, essendendosi verso sud, hanno occupato Santorini, hanno evoluto a Santorini una civiltà più complessa, e poi da lì a Creta hanno esportato i caratteri dell'ocultura appunto a Creta. E a Creta poi, con la civiltà minoica, si getteranno le basi di quello che è l'aspetto più complesso ed evoluto, che poi, nell'età del ferro, darà origine della tradizione che definiamo già elladica, e da quella elladica passiamo a quella ellenica, cioè quella greca tradizionale. Questo vaso, importantissimo, bellissimo, proveniente da Mykonos, un vaso molto grande, ha una serie di figurazioni eccezionali, ma già siamo molto vivanti. Siamo qui nel primo millennio Anticristo, ma per farvi capire che a Mykonos, nel cuore delle cicla di Mykonos, proprio accanto a Delo, noi troviamo nel 1000 a.C., già nella fase terminale del periodo cicladico, troviamo una serie di figurazioni, guardate, umane, di uomini, donne, bambini, che lottano tra di loro, e sopra, qua, nella parte a ruolo del collo del vaso, troviamo un elemento importantissimo, che è questo, che, se andiamo a vedere il dettaglio, eccolo, scusate, qui, indica un cavallo grande, con una serie di guerrieri attorno, e una serie di finestrelle, con dentro degli uomini nascosti, in riferimento alla saga omerica, cioè la guerra di Troia. Quindi, le cicladi, che hanno avuto una loro civiltà di 2000 anni più antica di Troia, di 2000 anni più antica della tradizione, poi, Micenea e Achea, proseguono il loro cammino culturale, e poi si annientano, si annullano, si disperdono, nella grande tradizione omerica, della Tardata del Bronzo, della fase, appunto, legata alla fase Achea e Micenea, mantendo, però, alcuni caratteri propri, e soprattutto, la sacralità di Delo, che, tra tutti i santuari della Grecia, essendo il più antico, mantiene questa sorta di innalzamento e consagrazione all'età del Tardo Neolitico, un culto nato, forse, con un culto femminile, che poi si positivizza e diventa, in epoca storica, il culto di Apollo, il dio nazionale dell'ordine. Grazie dell'attenzione.